Buongiorno e buongiornissimo Vegas! Oggi la nostra giornata inizia con una colazione, ormai da campioni, da Tartos & Charlie! Su che cosa abbiamo puntato? Buongiorno! Come dicevano i latini, ripetite l'U-Vamp con piccole correzioni, più le schifezze! E riprendi pure le stesse schifezze! E si, come le stesse schifezze? Mi scusi, signor Franco! Colazione di campioni, uoco, bacon, sausage, un extra di tost Ah, un extra! Si, perché poi lo mangiamo con la marmellata e un po' di burro Che bello, che bello! Pensa che l'hai ordinato tu! Era la meno schifezza! Beh, quello sta con le bistecche! L'esperienza! Piano piano, piano piano! Chi è che ha le bistecche? La meva! Laura, hai preso le bistecche? Io quando dormo in Italia non mangio più a colazione di latte feriari A vedere il camo e i padani Mi sembra giusto, mi sembra giusto! Beh, poi abbiamo la parte del dolce Carlo, le fanciulle Sono più tradizionalisti Med особенно spro yoga O cui st Ricchia un attacco O beranno che mi sembra O ricezione così Si, questo è ila giusto